Bentornati a tutti in un nuovo video di Verone, oggi qua con un titolo bello bello caldo. Pensate probabilmente di essere caluti in un clickbait, ma non proprio, perché realmente Verdansk e Rebirth Thailand torneranno il 15 di maggio, ma non esattamente come vi aspettereste. Infatti, in un gameplay di Verdansk nel 2023, noterete probabilmente una grafica decisamente più bassa, un menu decisamente nuovo, dei veicoli decisamente nuovi, ma familiari allo stesso tempo, perché sono quelli di Warzone 2. Direte, che ci fa Superdansk, le armi di Warzone 2 e i veicoli di Warzone 2? E questa grafica, perché è così pixelosa? Beh, perché questo non è più Warzone, ma è Warzone Mobile. Intanto vediamo la prima kill. Questo infatti sarà, il gioco uscirà il 5 maggio per, ovviamente, Mobile, quindi per cellulare, e vediamo già le skin di Messi, quindi praticamente sarà tutto integrato per quanto riguarda armi, esperienza, bundle e così via, con Warzone, la versione base. Questo ovviamente sarà un gioco gratuito, mi sa che pesa un bel po' di giga, se non mi ricordo male, tipo 5 giga sul cellulare. Ci sarà bisogno di un bel cellulare per farlo girare, come un po' su Warzone adesso, minchia il dropshot intanto, come adesso su Warzone con il PC o con le nuove console. Comunque, questo è il nuovo gioco per Mobile. Mobile che è, diciamo, uno, comunque, degli aspetti del gaming sempre da considerare, perché c'è tantissima gente che comunque gioca a Mobile, ovviamente non è la stessa roba di Warzone, però, diciamo, il gioco da gabinetto più giocato al mondo è questo qua, è Warzone Mobile, anzi, è COD Mobile, che adesso si trasformerà in Warzone Mobile con l'uscita. Vediamo che non ci sono meccaniche come Slight Cancel, almeno per ora, non credo ci siano i Movement Guild Guida anche qui, anche se ho già visto qualche, qualcuno mettere video su YouTube con scritto Best Movement on Warzone Mobile, quindi già iniziano ad esserci i primi King del Movement anche qua. Vediamo che a grande linea le meccaniche assomigliano molto a quelle di Warzone 2 e lo Slide, Dolphin Dive, c'è letteralmente tutto, quindi molto, molto simili, le armi sono le stesse. Vediamo se ci metteranno anche le armi vecchie di Warzone, ma secondo me, a questo punto, integreranno quello che verrà integrato anche nella via via, nel corso delle stagioni di Warzone 2 normale. Minchia, questa chilettina è intanto nell'angolo cieco, nell'angolo morto, questo ragazzo è bello esperto, si vede che ha giocato un sacco di Verdansk. Un'altra chilettina, intanto, è già a 6 kill, sta già fraggando, e come informazione intanto vi posso dare che il gioco esce appunto il 15 di maggio e intanto il corazzato esce il 15 di maggio ed è già giocabile in Australia per testing, lo stanno testando, e è già praticamente giocabile, volendo è scaricabile anche dall'Italia con una VPN. Ci sono un paio di tutorial su YouTube per scaricarlo, in caso foste interessati, se vi può interessare. Bombardamento. Attenzione, questo in open lo schiaccia? Oh, qua, sul mobile, funziona già. Funzionano già le macchine, si può già schiacciare gli avversari. Cosa è su Warzone 2? Apparentemente non funziona, quindi già sul mobile sono già più avanti del Warzone normale. Andiamo, minchia, comunque, Derdansk è feeling assurdi che dà, mamma mia, è tutta, è allucinante. È veramente figa come mappa, mamma mia. Era veramente bella. Ci lamentavamo tanto, ma era veramente troppo più bella. Caldera all'inizio pensavamo fosse la mappa rivoluzionaria, invece era una cacata immensa. Mentre la nuova mappa, non so voi, a me sta veramente piacendo un sacco. Piano piano, ogni giorno che la gioco, mi sta piacendo sempre di più. Poi magari vi porterò anche un, un paragone tra Warzone 1 e Warzone 2, secondo il mio punto di vista. Questo però è il, è il VLK classico, no, sembrava il VLK classico, ma c'è anche Warzone 2. È il 4x questo praticamente. Sembrava il VLK di Warzone 1. Però proprio un, un paragone tra quello che è Warzone 1 e Warzone 2, quali sono gli aspetti positivi e negativi, secondo il mio punto di vista. In generale vi spoilerò già che la mappa a me, quella nuova, mi piace un sacco, secondo me è studiata strabene. Ogni giorno che la gioco trovo anche, che ne so, in situazioni di open, trovo molta facilità a ripararmi dagli nemici, a fare tante cose. Mi sto, io mi sto divertendo, sto trovando delle soddisfazioni che non avevo rispetto a giocare Warzone 1. Minchia, in realtà è stata la mossa finale, anche qua su, su Warzone Mobile. Comunque è finissimo il fatto, l'aspetto che sia tutto, no, potere d'arresto, ho visto bene, potere d'arresto assurdo. Fighissimo l'aspetto che tutto sia collegato insieme, sia il Mobile, sia ovviamente Warzone normale, Warzone 2. Ovviamente i giochi non saranno crossplay, quindi non si potrà giocare da Mobile, con quelli da Xbox, o da Play, o da PC, ovviamente, a dispetto di come era Fortnite all'inizio. vediamo intanto il nostro simpatico amico con il suo tac che distrugge un avversario e ne aveva lasciato one shot un'altra che era dentro casa. Lo puscia. Ma che abbastanza fluido da vedersi così. Questo mi sa che è registrato o da un Android, mi sembra da un Android super potente, se non sbaglio. Samsung S20, 21, 22, una roba del genere, se non mi ricordo male. Nove bombe per lui. Questa zona la sapete? Non mi ricordo come si chiama, onesto. Il drop shottino. Prima è uscita anche evasione imminente. Qua ne ha due a terra, li può confermare. Questa zona come cacchio si chiama? Sapete? Non me la ricordo. Promenade, Promenade, è vero. Ecco, un aspetto di Warzone 1, ora vabbè, a parte questa non me la ricordavo, un aspetto molto, secondo me, molto bello di Warzone 1, di Verdansk, è che tutte le zone comunque erano ben riconoscibili e ben distinte tra di loro, avevano dei nomi semplici, cosa che non c'è su Warzone 2, invece che i nomi sono veramente imbarazzanti, ci sono Marshland ad esempio, oppure c'è Tarak, oppure c'è ci sono dei, non era Tarak, vabbè, in realtà è uno dei meno peggio, c'è Akhtar, Village, ci sono dei nomi ad esempio su Warzone 2 che veramente sono impronunciabili e impossibili da ricordare, questo è un po' un bottazzo. Se fosse un mio gameplay scriverebbero VPN e lobby. Intanto fa queste due bombettine, è già 15 uccisioni, 12 team in vita, 17 alive, qua intanto ne sono morti 7 mentre ha caressato il compagno, pushettino alla vecchia col quad, uh, ha roto l'avversario, però anche qua c'è l'animazione che prima di morire li deve investire, di là su Warzone 1 li investivi e morivano automaticamente, subito, immediatamente. questo si resta, un'occa, tac, sedicesima bomba, riuscirà a fare le 20, vediamo un po', tanto bombardamento, bombardamento identico a quello di Warzone 1 invece, come grafica in alto a sinistra. Tra l'altro su questo gioco oltre a Verdansk dovrebbero aggiungere più avanti anche Rebirth Island a quanto è stato liccato, per ora ancora non si sa ufficialmente quando uscirà, però è bene da sapersi che ci sarà sia Verdansk sia Rebirth su questo gioco. Attenzione, vede un avversario, prende posizione e lo lasera brutalmente, diciassettesima kill, ne vede un altro con l'MP5 un po' complesso da questa distanza, io userei il tac, è il momento di ricaricare. C'è anche la maschera d'oro, la stimolante, c'è letteralmente tutto ciò che c'è su Warzone 2. È fuori. Mamma mia, laserato. Diciotto bombe, ne può fare diciannove se uccide l'ultima. Ecco l'ultimo push. È sotto l'avversario. Uh, smira un po'. Ed eccola lì. La diciannovesima bomba, atterra l'avversario, deve solo confermare. Ed è la win. Anche qua le animazioni di Warzone 1, di Warzone 2. Ed ecco questa la vittoria su Warzone Mobile. Un bacio del Verone, spero che il contenuto vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento se vi è piaciuto il video. Ci vediamo presto per una nuova reaction, un nuovo gameplay. Un bacio del Verone. Ciao a tutti.